Musica Buon pomeriggio e bentrovati da Sportap 24 News. La puntata di oggi si apre con la pallavolo e più precisamente con la serie A2 femminile. Non inganni il punteggio finale, la sigel Marsala a Novara ha giocato una buona partita contro la capolista e candidata numero uno alla promozione diretta in Serie A1. Dobbiamo essere più bravi a sfruttare le occasioni propizie, ha sottolineato l'allenatore della sigel Emanuele Sbano. Siamo stati vicini a qualcosa di importante. Penso che il pubblico si sia divertito, forse non pensava di soffrire così tanto. Brave le ragazze, adesso però continuiamo su questa strada. Andiamo a vedere i risultati della giornata della Serie A2 di pallavolo. Era la diciannovesima giornata. Igor, Gorgonzola, Novara, Sigel, pallavolo Marsala 3-0. Cedato 85 San Vito, Sanitas, Metalleghe, Mazzano 0-3. Terre Verdiane, Crovegli, Volley 3-0. Il Bisonte, San Casciano, Riso, Scotti, Pavia 2-3. Pomica, Salmaggiore, Siamo, Energia, Ornavasso 3-1. Volley Soverato, Sistema, Montichiari 2-3. Punto, Tella, Sala, Consilina, IHF, Volley, Frosinone 1-3. Vediamo la classifica con al comando Ligor, Gorgonzola, Novara, quota 48. Poi siamo in Ergia, Ornavasso con 45 punti. Pomica, Salmaggiore, 44. Frosinone, 38. Riso, Scotti, Pavia, 34. Mazzano, 26 insieme a Crovegli, Volley. Poi con 25 punti c'è la Punto, Tella, Sala, Consilina. 24 per Sistema, Montichiari, il Bisonte, San Casciano e Volley Soverato. 23 Terre Verdiane, 10 Sigel, Marsala. 8, Cedat, 85, San Vito. Passiamo alla Serie B2 maschile. Nonostante i problemi di formazione di coach Fabio Aiuto, l'Eclissè, Pallavolo Trapani, ottiene l'ottava vittoria esterna su altrettante partite disputate. Andiamo a vedere i risultati della giornata. Algoritmi, tre mestieri Catania, Ragusa, 0 a 3. Pallavolo Augusta, Volley Modica, 0 a 3. Volo Virtus Lamezia, Lack Volley, Reggio Calabria, 3 a 0. ICQ, Ecoros Rossano, Callipo Sport, Vibo Valencia, 3 a 1. Coordiner Club Catania, Eclissè Trapani, 1 a 3. Mister Bianco, Space Group, Leonforte, 1 a 3. Ha riposato il 5 frondi. Al comando della classifica troviamo sempre la Volo Virtus Lamezia con 40 punti, a due lunghezze di distanza l'Eclissè Trapani con 38, poi Ragusa 35, Space Group Leonforte 31, 5 frondi 30, Volley Modica 29, Mister Bianco 22, Algoritmi Catania 18, Lack Volley Reggio Calabria 15, Coordiner Club Catania 14, Callipo Sport Vibo Valencia e Rossano 12, Pallavolo Augusta, 10 punti. Passiamo ai campionati regionali cominciando dalla Serie C regionale femminile. Continua la corsa solitaria della pasta Prima e Lucica Selvetrano che sabato pomeriggio ha festeggiato la tredicesima vittoria stagionale. In questa giornata note positive arrivano anche dalla Sicania Volley e dall'Ericentello Marsala. Ma andiamo a vedere tutti i risultati della quattordicesima giornata della regular season. Volley Farmacia Caronna, CDS Capacense, 3 a 1. Polisportiva Futura, Cal Volley Caltanissetta, 3 a 0. Città di Altofonte, Ericentello Marsala, 0 a 3. Passa Prima e Lucica Selvetrano, Fesis Lobello Divani, 3 a 0. Biaglio Sabatino Volley, Auxilium Sant'Agata, 3 a 0. Sicania Volley, Ericina Volley, 3 a 1. Al comando della classifica, sempre la Passa Prima e Lucica Selvetrano con 39 punti, poi Polisportiva Futura con 34, Volley Farmacia Caronna, 28. Ericentello Marsala, 27. Sicania Volley, 25. ACDS Capacense, 22, 21. Biaglio Sabatino Volley, 15. Ericina Volley, Eda Fesis Lobello Divani, 11 punti per la città di Altofonte, 10 per Cal Volley Caltanissetta, 5 per l'Auxilium Sant'Agata. Lasciamo la C regionale femminile, passiamo alla C regionale maschile. Tutto come previsto per SP Automazzara e per la Libertas Partanna che intrasferta. Hanno fatto entrambe bottino pieno. Vediamo i risultati della quattordicesima. GS Pallavolo Terrasini, Volley Club Schacca, 3 a 1. Urmez Viaggi Carini, SP Automazzara, 1 a 3. Nino Castiglione Erice, Olimpia Volley, 3 a 2. Med Trade, Polisportiva, Libertas Partanna, 0 a 3. Frecciazzurre, Elettronica Cicala Termini, 0 a 3. Ha riposato, Lobby Volley ASD. Al comando sempre l'Elettronica Cicala Termini con 38 punti, poi Pallavolo Terrasini e Libertas Partanna, Pagliate a quota 26, poi Olimpia Volley 23, Nino Castiglione Erice, Frecciazzurre 22, Volley Club Schacca 19, SP Automazzara 16, Obby Volley 11, Med Trade 6, chiude, l'Urmez Viaggi Carini, solamente con un punto. Passiamo adesso al basket. Cominciamo dalla divisione nazionale B. Ianes, Svoboda e Virgilio. Sono questi i nomi dei trascinatori che hanno consentito al Trapani di incanalare la vittoria stagionale numero 17. Al Paladespar è netta la supremazia dei Granata su Rieti. Vediamo i risultati. 22esima della regular season, Lighthouse Trapani, Link e Marieti, 91 a 65. Quarta Caffè, Monteroni, Oasi di Cufrafondi, 79 a 52. Ambrosia Bisceglie e Roseto, 67 a 78. Autosoft Scauri, Pallacanestro Pescara, 68 a 61. Basket Nord Barese, Assi o Studi, 80 a 79. Gruppo Bernalda, Stella Azzurra Roma, 100 a 91. Fondazione Francavilla, 2S Martina, 78 a 65. Infine, Iris Costruzioni Gaeta, Agropoli, 69 ad 84. Andiamo a vedere la classifica. Al comando sempre il Madagasc Basket Nord Barese con 40 punti, poi Lighthouse Trapani e McEnergy Roseto, 34. Pallacanestro Pescara, Autosoft Scauri e Fondazione Francavilla, 28. Bisceglie, 2S Martina, 24. Assi Basket Ostuni, 22. Agropoli, 20. Rieti e Iris Costruzioni Gaeta, 18. 14 punti per Quarta Caffè, Monteroni, 8 per Stella Azzurra Roma, 4 per Gruppo Bernalda, 2 per Oasi di Cufrafondi. Passiamo adesso alla Serie C regionale, girone a nord. Trasserte messinesi che portano bene alle squadre. Trapanesi vince il Basket Mazzara che, approfittando del turno di riposo dell'Aquila Palermo, sale al secondo posto in classifica, ma vincono nettamente anche la Virtus Trapani e la Virtus Alcamo. Vediamo i risultati della diciottesima giornata. Cefalù Basket, Green Basket Palermo, 69 a 58. FP Sport Messina, Virtus Alcamo, 42 a 84. Vince anche il Paceco contro un'altra messinese, il Mia Basket per 81 a 61. Nuova Gatirno, Capodorlando, Basket Mazzara, 72 a 83. Basket School Messina, Virtus Trapani, 52 a 71. Ha riposato la Nuova Aquila, Palermo. In classifica al comando troviamo sempre il Cefalù Basket con 30 punti. Poi a Paiate, Nuova Aquila, Palermo e Basket Mazzara con 28 punti. Green Basket Palermo, 20. Quindi Nuova Gatirno, Capodorlando, Basket Paceco, 16. Virtus Alcamo, 14. Virtus Trapani, 12. Mia Basket, 10. FP Sport Messina, 4. Basket School Messina, 0 punti. Lasciamo il Basket per passare adesso al calcio a 5. Cominciamo dalla serie C2. Mabbonat che vince di misura. E Real Marsala che tiene il passo dilagando a Palermo. Va allo Sporting P5, invece, il big match contro lo United Capaci. Vediamo i risultati. Toccia Football, San Gregorio Papa, 4 a 3. San Vitolo Capo Atletico, San Josef, 7 a 2. Cus Palermo, Real Marsala, 1 ad 8. Sporting P5, United Capaci, 4 a 2. Real Calcio, 0,91, 5 a 9. Ficarazzi, lo Zodiaco Alcamo, 5 a 3. TR Club, Mabbonat, 0 a 1. La classifica vede al comando sempre la Mabbonat. In segue, invece, il Real Marsala ha 7 lunghezze. Quindi Mabbonat, 55. Real Marsala, 48. Sporting P5, 47. Poi lo Zodiaco Alcamo, ed United Capaci, 43. 0,91, 36. Real Calcio, 33. TR Club, 29. San Vitolo Capo, 28. Atletico San Josef, 20. Cus Palermo, 19. Toccia Football, 18. Ficarazzi, 17. Chiude il San Gregorio Papa con 7 punti. Passiamo adesso alla serie D. Provinciale, torna a sorridere il club Fontana Salsa Calcio a 5, che vince con un netto 16 a 3 contro la polisportiva Boscaioli. I ragazzi di Mister to Disco, autore fra l'altro di una pregevole doppietta, pare abbiano ritrovato il canale giusto per imporsi sugli avversari. E con questi tre punti si assestano all'ottavo posto in classifica. Abbiamo lavorato sodo in queste settimane e i frutti finalmente sono arrivati, commenta il tecnico. Ci aspetta un finale di campionato molto duro, ma se i ragazzi continueranno su questa strada sicuramente ci toglieremo ancora delle belle soddisfazioni. Il Marsala Fultz sale invece e non va oltre il 2 a 2, agganciato a pochi minuti dal termine, grazie ad un calcio di rigore realizzato da Renda. Non è stato semplice per la capolista far breccia nella difesa della formazione alcamese, come previsto sin dalla vigilia. Infatti la formazione di Mister Dia ha chiuso ogni barco ed in contropiede ha messo in seria difficoltà la retroguardia azzurra. Vediamo i risultati della diciassettesima giornata della Serie D. Bonagia Sant'Andrea, Cittadella Pantelleria 7 a 2, Boscaioli Club Fontana Salsa 3 a 16, Città di Marsala Custonaci 11 a 4, Folgore Selinunte Libertas Marsala 6 a 0, Club Giudecca Nuova Sportiva del Golfo 4 a 6, Marsala Futsal Sporting Alcamo Onlus 2 a 2. Vediamo la classifica. Al comando sempre il Futsal con 46 punti, a 10 lunghezze poi troviamo la Folgore Selinunte con 36, quindi la Nuova Sportiva del Golfo 34, Sport Club Giudecca 33, Cittadella Pantelleria 31, Città di Marsala 29, Sporting Alcamo 28, Bonagia Sant'Andrea 25, Club Fontana Salsa 22, Custonaci 8, Libertas Marsala 7, Boscaioli 0 punti. Passiamo adesso alla calcio. È finita, dopo appena tre partite, l'avventura di Alberto Malesani sulla panchina del Palermo. La decisione è arrivata all'indomani dello 0 a 0 casalingo contro il Genoa. Malesani è dunque il cinquantesimo allenatore esonerato in carriera dalla presidente Maurizio Zamparini, che ha richiamato Giampiero Gasperini sulla panchina rosa nero. In una nota del club palermitano si legge testualmente, l'Unione Sportiva Città di Palermo comunica di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Alberto Malesani e richiamato in panchina Giampiero Gasperini. C'è rammarico considerando Alberto Malesani un'ottima persona ed un ottimo allenatore. Lo ringraziamo per il tentativo fatto, ma la decisione presa ci sembra l'unica percorribile in questo difficile momento. Lasciamo la Serie A per passare alla Lega Pro. Pacilli e Mancosu stendono la Lumezzane ed il Trapani di Roberto Boscaglia Rosicchia, due punti importantissimi a Lecce, che non va oltre il pari in casa della Virtus Entella. Vediamo i risultati dalla ventiquattresima giornata della Lega Pro, prima divisione girone A. Como, Ferralpi, Salò 0-2, Cugno, Sud, Tirol, Alto Adige, una delle tante gare rinviate causa maltempo, come San Marino, Albinoleff e del resto. Poi Trapani, Lumezzane 2-0, Treviso, Cremonese 1-1, Tritium, Porto Gruaro anch'essa rinviata, Virtus Entella, Lecce 2-2, Carpi, Pavia, il posticipo di questa sera, ha riposato. Invece la Reggiana. Vediamo la classifica, ovviamente mancano tante gare da disputare, ma questa più o meno è una classifica parziale, con il Lecce che ha una partita in più rispetto alla Trapani, Lecce a quota 44, Trapani 42, Sud, Tirol 37, San Marino 35 come la Virtus Entella, Lumezzane 33, Carpi 31 come il Ferralpi-Salò, Pavia 30, via via, poi tutte le altre squadre. Continuiamo a parlare di calcio, ma questa volta parliamo di calcio giovanile. Nel campionato allievi regionali girone A, il Mazzara Calcio ha avuto la meglio sul Real Ribera. Dopo 20 minuti del primo tempo, il Mazzara era già avanti di due gol, uno realizzato su rigore da Francesco Ballatore, l'altro su un contropiede orchestrato da Alessio Brignone. Ma il Ribera non ci sta e prima della fine del primo tempo trova il 2-1. Nel secondo tempo poi la squadra ospite entra in campo determinato e riesce a realizzare anche la rete del pari, ma i giovani canarini spronati e caricati da Mr. Masi iniziano ad attaccare. Prima della fine della partita, Alessio Brignone realizza un gol da manuale, quello della vittoria, con una punizione a rientrare che si insacca sotto la traversa. Per la categoria giovanissimi regionali invece il Mazzara ha superato in trasserta lo Sporting Arenella Palermo per 2-1. La gara è stata giocata ad ottimi livelli su un terreno reso quasi impraticabile dalle forti piogge. Lo Sporting dopo 10 minuti è passato in vantaggio su una dormita collettiva della retroguardia canarina, ma i giovani mazzaresi non si abbattono e pareggiano subito con una rete di Alessandro Costanza. Nel secondo tempo lo Sporting Arenella scende in campo con la chiara intenzione di far propria la gara, ma i giovani gialloblu tengono bene e a 10 minuti dal triplice fischio, Michele Giacalone con un pallonetto a scavalcare il portiere trova il gol per la meritata vittoria finale. Quindi complimenti ai giovanissimi del Mazzara Calcio, sia agli allievi che ai giovanissimi dunque. Lasciamo il calcio, passiamo adesso al badminton. La DS Mediterranea Cinisi vince 5-0 in casa contro Novi Ligure e Balza, al comando della classifica del campionato di Serie A di badminton. I campioni d'Italia in carica battono la compagine Alessandrina, scendendo in campo con Giovanni Traina ed Elena Cepurnova, ed i top player, cioè il guatemalteco Kevin Cordon e la canadese Michelle Lee, quarta nel doppio femminile agli ultimi giochi olimpici di Londra. Con questo punteggio la DS Mediterranea balza al comando a pari punti con il badminton club Milano, ma con una partita ancora da recuperare contro Alcamo. Quindi ancora una volta la squadra cinisense chiude al comando la stagione regolare del massimo campionato di Serie A. Sempre per quanto riguarda il badminton, Giovanni Greco invece torna dalla trasferta in Uganda con due medaglie al collo. Quella di bronzo aggiudicata nel singolo e l'oro nel doppio maschile in coppia con l'altro azzurro Messersì, bissando così quanto fatto lo scorso anno. L'atleta della DS Mediterranea Cinisi a Campala ha finalmente sentito l'inno italiano per aver battuto la coppia egiziana, mentre sabato si è fermato al gradino più basso del podio, dopo aver perso in semifinale contro il cingalese Karunaratne che ha poi vinto il torneo. Era questa l'ultima notizia, ovviamente tutte le notizie insieme anche a questa puntata video la trovate all'interno del portale sportap24.it con tutti i risultati e le classifiche sempre in costante aggiornamento. Ovviamente i vostri comunicati stampa li potrete sempre inviare al nostro indirizzo email sportap24.gmail.com Appuntamento con Sportap24 News a sabato prossimo. Buona giornata. Grazie a tutti.